Alle 18.20 si riparte, alle 18.21 vedete il film la nave che parte, quindi mi raccomando puntuali 18.20 si riparte, buona passeggiata, più tardi, stiamo sempre tutti seduti fino al termine delle operazioni di ormeggio poi una volta ormeggiati, piano piano scendiamo, grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici